Giovani ma con già le spalle un'importante esperienza politica. Carlo Pasqui, Valentina Vadi, Filippo Gallo, Stefania Boschi, Valeriano Gori, Simona Lomonaco ed infine Daniele Pulcinelli sono i sette candidati del Comitato Provinciale Arezzo per Orlando per l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. Sono un mix di esperienze territoriali ed esperienze politiche e stiamo lavorando tutti per Andrea Orlando perché appunto come dice il suo slogan dobbiamo unire l'Italia e unire il PD. Il nostro obiettivo è vincere le elezioni, in questo momento siamo in difficoltà con gran parte dell'elettorato, abbiamo perso pezzi quindi ci proponiamo un disegno un po' diverso, parlare di disuguaglianze, cercare di risolverle queste disuguaglianze. In tutto il mondo il tema centrale è quello degli esclusi che si sono allontanati dalla politica attiva e noi cerchiamo di recuperarle. Questa è una missione molto difficile ma una missione che vale la pena di vivere e per questo proponiamo a tutti di venire a sostenerci il 30 aprile e di votare Andrea Orlando alle primarie. Ci sarà anche un importante appuntamento che chiuderà questa campagna giovedì prossimo? Alla Casa delle Culture, alle 9 interverrà Vanni Nochiti ma soprattutto sarà un'occasione di ascolto e di confronto con i nostri elettori. A sostegno della mozione Orlando e dei candidati anche la senatrice Donnella Mattesini e l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli. L'appello che faccio è che tutti i cittadini vengano a votare, tutti coloro che si riconoscono nel centro-sinistra nel Partito Democratico. Decidiamo sì il segretario del Partito Democratico ma interesse di tutti perché a seconda di quello che succede nel risultato cambierà anche la vita politica per molti italiani, le prospettive politiche. Sto pensando al fatto che se vince Orlando noi andremo alle elezioni con una legge elettorale che aiuterà la ricomposizione del centro-sinistra, una legge elettorale che vieterà che ci sono i capilista bloccati. Quindi un tema di democrazia e di partito fondato sull'ascolto e sul dialogo con tutte le componenti sociali e non solo soltanto con i partiti. Un partito fatto di dialogo e di ascolto e non della filiera degli ubbidienti.